buongiorno ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un altro punto di agopuntura il punto stomaco 10 a 7 ruzong o yu chung in lingua cinese stomaco 10 a 7 si localizza sul capezzolo ruzong tradotto in latino diviene medium mamme ovvero centro del capezzolo in italiano il che rimanda primariamente alla localizzazione anatomica di questo punto tuttavia il termine centro del capezzolo appare preonastico per indicare esclusivamente il capezzolo infatti centro nella terminologia cinese agopunturale è un'indicazione per la fase evolutiva terra e la sua enorme valenza equilibrante nelle orbite funzionali stomaco e milza pancreas entrambe appartenenti alla fase evolutiva terra troviamo un insieme di tessuti organi funzioni la cui buona espressione è utile alla funzione biologica del raccoglitore osserviamo come nel terra siano collocate insieme lo stomaco organo con il significato di nutrire se stesso e il seno con il significato di nutrire l'altro nutrire se stesso e nutrire l'altro con le risorse ottenute dalla raccolta è il talento alto di colui che nel clan assorbe il compito del raccoglitore agli esordi dell'umanità la raccolta era spontanea poi successivamente frutto di coltivazione questa particolare propensione verso l'altro del terra sospende la divisione tra individui ed è per questo che il terra ha una capacità equilibrante ovviamente la qualità terra equilibrante non è una caratteristica del femminile ma ugualmente distribuita tra i generi vediamo ora le indicazioni cliniche per stomaco 10 a 7 almeno per come risultano dei testi antichi questo agopunto disperde calore umidità e disperde ardor la stimolazione di stomaco 10 a 7 è utilizzata accanto a terra spia specifica ovviamente in caso di attacchi epilettici soprattutto quando dovuti alla perdita di un equilibrio in caso di patologia preesistente ma compensata stomaco 10 a 7 si utilizza per il colpo di sole si utilizza anche per quel gran mal di testa e sonnolenza che permangono dopo il colpo di sole la stimolazione agopunturale di stomaco 10 a 7 nei testi an classici espressamente controindicata stomaco 10 a 7 si stimola manualmente la suzione del neonato è anche uno stimolo naturale in epoca moderna alcuni agopunturi hanno utilizzato mox e agopuntura su stomaco 10 a 7 tuttavia occorre avere in merito una grande prudenza il significato maggiore di stomaco 10 a 7 è la sospensione di una divisione netta tra se stesso e l'altro aprendo un portale tra una dimensione dell'esistenza e la successiva l'agopuntura è una terapia riconosciuta dalle maggiori istituzioni sanitarie in italia l'agopuntura è atto medico fin dal 1984 l'unesco l'ha definita patrimonio culturale dell'umanità bene siamo alla fine del video di oggi lasciate un commento o una domanda sarà mia cura rispondere a tutti spero di vedervi presto ancora arrivederci